Ciao ragazze e ciao ragazzi, video outfit, è venerdì sera, sto per scendere, dopo una giornata di studio ci vuole una bella passeggiata anche se ho i dacchi, poca passeggiata tanto pub con qualcosa da drincare comunque iniziamo subito dal viso, non ho nulla sul viso tranne 4, 5, 6, 10.000 passati di mascara gloss trasparente, poi ho come sempre la mia fedina, il mio cuore a metà è la mia fedina scusate, dopo una giornata di studio sto da fuori poi sull'altra mano ho messo questa anello fascetta con fascetta blu questa è un po' vintage, un po' tanto vintage, è arrivata negli anni 70 se non erro, sì alle orecchie ho due cerchi che sono diversi, da una parte uno dorato con una crocetta con brillantini e un brillantino rossiccio dentro, l'ho sempre portato così da quando ho memoria cioè prima erano uguali, poi uno si perse e lo portavo singolo poi mi è piaciuto fare un contrasto, quando ho iniziato a diventare un pochino più esperto più attenti ai particolari, mi è piaciuto differenziare da una parte il d'oro e l'altra parte l'argento è una cosa un po' particolare mischiare i due, come si chiamano, le due leghe però a me piace, non so, è carino fatemi sapere se vi piace anche a voi mischiare un po' le leghe dei bijoux a me piace, comunque da una parte è dorato con la crocetta, dall'altro lato argentato al collo ho un altro reperto archeologico degli anni 70, è un polipetto non so se si vede, è carino e capelli molto naturali giù ho deciso di mettere questo twinset giallo pastello, pastellino, sto dicendo pastello la particolarità di questo twinset è la manica trasparente del top che viene ripresa anche qua, si potrebbe portare anche chiuso, però la serata lo permette comunque è estate, quindi lo preferisco portare così, se ho caldo mi apro, lo tolgo se invece sul motorino sto un pochino più chiusa, quindi sul motorino sto prendendo più aria e comunque dicevo è ripreso anche qua sulla manica giù ho deciso di mettere dei jeans stretti con una cintura perché altrimenti crollano sono di maglietà e voglia dunque sono semplici jeans stretti che cadono stretti fino giù ai piedi ho deciso di indossare, sempre giallo per riprendere il top, questi sandali però quasi sono in giallo fluo avrebbero anche la fibbia però non si vede visto che il pantalone copre sopra per rimanere sobria, visto comunque ho due pezzi gialli di cui uno molto forte ho preferito condossare una borsa di una grandezza media quindi va bene anche per la sera, nera per riprendere comunque i jeans e in ecopelle riprende anche il cinturone da portare o a spalla, perché io preferisco a spalla o comunque giù non mi piace molto portarla al gomito no, non mi piace spero che questi abbinamenti vi piacciano ho giocato su questi toni del giallo però in due gradazioni diverse un giallo molto tenue e tranquillo abbinato a un giallo fluo alle scarpe spero che vi piaccia, vi mando un bacio grossissimo e ci vediamo al prossimo video ciao ragazze, ciao ragazzi in gamba